e siamo 85 pari, incubo supplementari Troy Bell proverà a scongiurarli c'è una discrepanza minima di due secondi, un secondo e mezzo tra il cronometro generale e quello del 24 Troy Bell parte attenzione alla sua conclusione che sarà sulla sirena con Green da tre punti sul ferro si va al supplementare la palla era fuori, vediamo se gli arbitri faranno giocare ancora mezzo